Ma io credo che questi temi vengano utilizzati sempre come un elastico, dipende dalla convenienza che ciascuno ne trae. Ma la situazione sicuramente non è quella delle più facili, ma non lo sarebbe in ogni caso se non ci fossero le elezioni. Diciamo che le elezioni forse possono dare una prospettiva di stabilità, che è quella che chiedono i mercati, che è quella che chiede il Paese. Non più parlare di riformicchie o di leggi elettorali, ma parlare del piano infrastrutturale del Paese, piuttosto che della politica industriale e commerciale che manca e dell'attitante un po' come sistema. Cioè, intendo dire, cominciamo a parlare dei temi del Paese, per farlo c'è bisogno di un governo con una prospettiva di lunga durata, i mercati chiedono credibilità e stabilità, che le elezioni quanto prima ben vengano.